ciao a tutti ragazzi sono stagia del bellario sul mio canale siamo tratti col viaggio dopo un po di tempo episodio veramente veramente breve non arriva a 2 minuti questo episodio mi stavano per te viva la serie siamo a chicago 2 agosto 2017 ecco qua ragazzi siamo nero con alexander abbiamo appena vinto il torneo estivo vediamo cosa dirci i compagni allenatore grazie per la fiducia mister che poi alleatori ragazzi sempre il solito sarebbe guardiola però ogni squadra che voi scegliete sarà sempre il solito purtroppo vabbè vediamo cos'altro ecco qua ragazzi abbiamo solo fallito i tiri abbiamo tirato meno di dieci volte in porta bene abbiamo tirate 7 però qualche cosa abbiamo fatto abbiamo sbloccato vabbè cose dell'ultima il team che giocano alla mente continuiamo il nostro viaggio episodio 11 veramente con cortissimo neanche corto cortissimo e ragazzi così torno alla home perché bisognerà prepararci per ciò che dovrà avvenire ragazzi mi lasciate che iscrivervi come al solito e ci si vede direttamente al prossimo episodio ciao a tutti i ragazzi grazie alla visione